Leonardo, cosa è accaduto nella terza puntata? Leonardo si ritrova solo, infatti Caterina non si trova più alla corte di Sforza, però l'uomo rimarrà sconvolto a causa della morte della moglie di Sforza. La donna infatti muore di parto purtroppo, però continuerà a lavorare per Sforza e inizierà a dipingere l'ultima cena insieme ai suoi collaboratori. Tuttavia le proporzioni tra il soffitto e i personaggi non saranno precise e quindi Leonardo decide di rifare il dipinto, di correggerlo. Il potere di Sforza viene meno e a quel punto Leonardo decide di tornare a Firenze e lì rincontrerà Caterina. Caterina lavora come lavandaia e Leonardo vorrebbe che lei smettesse di lavorare e vivere con lui in bottega, però Caterina non lo ha mai perdonato e quindi a quel punto Leonardo decide di trasferirsi a Imola, alla corte di Cesare Borsa. Imola ha l'occasione di mettere a frutto le sue capacità di ingegnere, però si rende conto di quanto Borgia sia un sanguinario e vuole tornare a Firenze. Borgia però glielo vuole impedire e gli dice che se vuole tornare nella sua città deve costruire una macchina da guerra in grado di uccidere cento persone. scrive tutto questo a Caterina che nel frattempo lo ha perdonato. Alla fine Borgia lo lascia andare, infatti ha ricevuto da qualcuno 30.000 fiorini, così Leonardo può tornare a Firenze e riabbracciare Caterina. Alla fine della puntata scopriamo che Caterina ha un figlio.